Mi sono ferita perché a volte le relazioni diventano un po' quel luogo di una persona, un po' si gioca la vita. Ci conosciamo e me lo voglio a farlo. Sono dispiaciuto e allo stesso tempo arrabbiato. Non pensi che mi scelgo io, mi scelgo io. Ma che bello. Non potevo mangiare. E lui mi ha aperto la brezza, l'opero che è in Italia. E grazie a vedere sia un apporto di un piano, perché su un evento decine c'è di dare in Italia. Si vive, le mani vivono. E infattire, infattire, perché l'altro vede quella cosa in questo modo, si trova quasi sempre in... Sono amassa... E poi la parte... Grazie. Grazie per essere stati presenti, ma ci dobbiamo preparare all'evento successivo. Quindi chiedo a tutti di abbandonare la platea, di andare oltre i transfermi perché abbiamo già i prenotati dell'evento successivo in fine, la strategia è sempre quella, i prenotati entro alla mia sinistra e i non prenotati in fondo. Quindi quando ho visto che era qui mi sono emozionata. Grazie. 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 Buonasera. Grazie. 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 Grazie.